Federica Brignone, una stagione ricca di grandissime soddisfazioni, te lo aspettavi questi risultati? Sicuramente è stata una stagione per me fantastica e veramente sono riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi che avrei potuto sognare, quindi davvero è stata una stagione incredibile, forse così tanto no, però comunque i sogni c'erano e l'impegno c'è stato, il lavoro è stato tanto, quindi sono riuscita veramente a mettere in pista tutto quello che avevo per l'inverno. La Coppa del Mondo Generale che avevi vinto qualcuno un po' aveva avuto da ridire, i risultati di quest'anno hanno dimostrato che quella non è stato un caso? Diciamo che i risultati delle ultime miei sei stagioni parlano chiaro, quindi basta andare a vedere dei dati, basta andare a vedere le medie, basta andare a vedere tutti i punti, quindi voglio dire il cronometro e soprattutto i fogli parlano, anche se non lo dico io, lo dicono loro per me. Vresti darti un voto a livello scolastico della tua stagione, che voto ti daresti? Non lo so, non mi piace dare i voti, sicuramente è un voto molto positivo, davvero ho fatto una stagione incredibile, perché non solo è stato il momento olimpico, quindi con le due medaglie, ma è stato anche tutta la stagione, perché vincere una Coppa del Mondo vuol dire che ci sei tutta la stagione, in più sono riuscita a raggiungere risultati in tre discipline diverse, quindi la Coppa è di Super G, ma le medaglie sono in combinata e in gigante, e quindi davvero sono molto soddisfatta. Un quadrienne che porterà a Milano Cortina, tu sogni Milano Cortina o dici vado avanti passo per passo? Io vado avanti passo per passo, sono qui da tanto tempo, comunque la mia carriera è stata lunga, è stata anche molto soddisfacente, e sinceramente ho già raggiunto di più di quello che mi sognavo come una ragazzina, per cui anno per anno se sarò motivata, se il mio fisico starà così bene, se riuscirò a mantenere il livello o perché no, ma non ho voglia di mettermi pressioni inutili, e lavorerò stagione per stagione cercando di stare al meglio e così sognando come tutti gli altri una grande Olimpiade a Milano Cortina.